E' stata presentata nei giorni scorsi la campagna di sensibilizzazione per le nuove modalità di raccolta differenziata che diverranno operative a partire dal 1 luglio 2019 nella città di Agropoli. Il climb della campagna e tempo di buona raccolta vuole fungere da sprone per tutta la cittadinanza affinché le diverse utenze, domestiche e non, possano offrire il proprio contributo. L'obiettivo generale è infatti superare l'attuale percentuale di raccolta differenziata, il 55% circa, per raggiungere quello previsto per la legge del 65%. Insieme alla Sarim abbiamo lavorato a lungo per apportare delle piccole modifiche perché nel tempo le aziende che lavorano sul territorio si rendono conto quali sono i giorni in cui si fa meglio, che cosa le persone riescono a conferire meglio, quindi l'esperienza porta loro stessi a decidere quali sono i giorni migliori per il conferimento di alcune cose anziché di altre. Perché è chiaro che l'esperienza cambia nel tempo, loro stessi vivono di esperienza perché i loro lavoratori scendono tutte le mattine nelle nostre strade, anzi li ringrazio moltissimo perché grazie ai lavoratori ecologici noi abbiamo una città pulita, una città pulita e anche più bella turisticamente e quindi lo strumento che la Sarim ci offre con spot, video, informazione, le piccole modifiche del cambiamento dei giorni che dipende dall'esperienza per raggiungere al meglio questo agognato e aspirato 65% di riciclabile che è quello che ci promuoviamo anche se noi sia gli anni precedenti che adesso abbiamo fatto il 55% che non è poco. Però la legge è cambiata perché chiaramente l'attenzione all'ambiente aumenta sempre di più perché tutti quanti dobbiamo, se non l'abbiamo ancora capito bene, se l'ambiente si ammala ci ammaliamo noi e quindi abbiamo il dovere di rispettare gli alberi, di rispettare il mare, di rispettare la natura, di vivere in maniera armoniosa. Per fare questo abbiamo bisogno che non si producano sostanze nuove ma si riciclano quelle che ci sono già. Questo è il messaggio che mi sento di mandare e seguite questa bella campagna, noi faremo dei momenti di sensibilizzazione, chi non ha compreso bene ci trova disponibili ogni momento perché l'ambiente e la difesa vera che noi abbiamo per la nostra salute.